Un saluto dal Tg della Mobilità. 39 fermate, capolinea in via del Bosco degli Arvali, in strada da lunedì al sabato. Lunedì prossimo 9 agosto debutta una nuova linea sulla rete bus, la 713. Sarà una circolare che metterà in collegamento l'area compresa tra la Portoense, via del Trullo, via della Magliana e via delle Vigne, con la sede di via Fulda dell'ospedale Israelitico e la stazione Magliana della Ferrovia FL1. La 713 sarà in strada nei giorni feriali, dal lunedì al sabato. Gli orari delle prime e delle ultime partenze dai capolinea saranno alle 6.45 e alle 21.05 e dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.20 nella giornata di sabato, con un intervallo medio giornaliero di 45 minuti. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.